Il progetto è un progetto di emergenza sul colera e il progetto faceva fronte all'epidemia che a metà novembre ha colpito il paese. Il progetto era organizzato con dei centri di trattamento del colera situati nella città di Capaissien e delle cliniche mobile che cercavano di raggiungere i paesi confinanti da città. Ho gestito due centri di trattamento colera situati nella città di Capaissien, di cui uno con 80 posti letto e un altro con 40 posti letto. E' un totale di 100 staff tra medici, infermieri e personale di supporto medico. Durante le missioni l'equip con cui lavori, che sia staff nazionale o espatriato, è sicuramente uno dei supporti più grandi per affrontare tutte le difficoltà che si incontrano, che possono essere la fatica o il bisogno di informazioni. Bisogna credere nei propri ideali e buttarsi in questa esperienza. Una volta un capo missione mi disse che Vedici Senza Frontiere rimane uno dei pochi posti in cui poter vivere ancora i propri ideali e io credo che sia proprio questo. Questa è la mia quinta missione e ogni volta tornare in Italia ha un impatto totalmente diverso. Poco a poco si impara a partire ma anche a tornare senza aspettarsi che gli altri capiscano pienamente quello che si è vissuto. Ma quello che bisogna salvaguardare è sempre la voglia di condividere perché magari le persone non capiranno tutto ma continueranno a condividerle.